Buongiorno, ben ritrovati. Oggi vorrei parlarvi della dipendenza affettiva. Ora, può capitare che all'inizio di una relazione sentimentale ci si senta coinvolti in un turbinio di emozioni molto forti. Il desiderio di rivedere il partner, subito, al più presto, è un desiderio di trascorrere molto tempo con lui. C'è la voglia di condividere i propri interessi, il piacere della reciproca compagnia. C'è un forte desiderio di fare progetti insieme, oltre che naturalmente un desiderio sessuale. Tutti questi sono comportamenti che possiamo considerare fisiologici e caratterizzano gli aspetti dell'innamoramento, che sono tipici delle fasi iniziali di un rapporto sentimentale. Quando parliamo di dipendenza affettiva, intendiamo qualcosa di diverso. Intendiamo una modalità relazionale e patologica che compromette in modo crescente la qualità della vita di chi è affetto. E questo può avvenire sia da un punto di vista lavorativo, sia da un punto di vista familiare, anche sociale e relazionale. ed è caratterizzato da comportamenti di un eccessivo attaccamento, quindi di dipendenza dalla persona, che è oggetto del desiderio, e caratterizzato dalla necessità di un crescente contatto con questa persona. Per cui, il dipendente affettivo, uomo o donna che sia, arriva a negare e a rinunciare alla propria identità, rinuncia ai propri bisogni, pur di garantire la presenza costante del partner, che viene considerato come la sola ed unica fonte di gratificazione, l'unica fonte di sicurezza, di amore e di cura. Ma? Ma? Avere bisogno di una relazione per dare un senso alla propria vita e per poter andare avanti. Se da un lato è normale, però, dall'altra parte, tutto questo implica una riflessione profonda. Ci dobbiamo chiedere, quanto siamo disposti a vivere la nostra vita da soli? Vivere la vita da soli è così insopportabile. Non bisogna convincersi che il partner giusto risolverà tutti i nostri problemi. Non possiamo fare troppo affidamento sugli altri, perché credere che tutti i problemi derivino dallo stare con la persona sbagliata, credere che tutti i problemi derivino dal non aver ancora trovato la persona giusta, significa ragionare in maniera un po' perversa, un po' patologica. Ma infatti, sentire che la vita non avrebbe senso senza una relazione sentimentale è già un segno di leggero malessere. Poi aggiungiamo l'incapacità di interrompere la relazione, anche quando si è consapevoli che una relazione non gratificante, o addirittura una relazione insana, sarebbe appunto paradossale. In questi casi, la difficoltà qual è? È una difficoltà a dire di no. La difficoltà a dire di no al partner rispecchia un deficit nel mettere dei confini. È un problema nostro. Ecco perché fantasticare di trovare il principe azzurro che risolverà tutto e renderà felici è un pensiero piuttosto ingenuo. Così come è ingenuo avere un atteggiamento sempre seduttivo con l'altro. Così come è ingenuo usare il sesso per ottenere attenzioni, per ottenere amore, denaro. Questi sono tutti i campanelli d'allarme che dovrebbero farci riflettere. Dovrebbero farci riflettere perché in un certo senso dovremmo ringraziare l'altro che ci fa vivere una situazione di riflessione. Dovremmo ringraziare il narcisista di turno o il borderline o il manipolatore di turno che incontriamo nella nostra vita. Perché? Perché grazie a questi incontri noi possiamo capire chi siamo e poi possiamo realizzare noi stessi. C'è una profondità che viene fuori in queste relazioni. Ed è grazie a loro, grazie a queste relazioni, che noi capiamo chi siamo. Perché la comprensione, la comprensione psicologica, nasce dal conflitto. Senza conflitto saremmo piatti. Saremmo senza motivazione. Quindi inconsciamente noi il conflitto ce lo andiamo a cercare. Naturalmente in tutto questo c'è un però. Cerchiamo di spiegare meglio. Dovremmo capire cosa si intende per autorealizzazione. Il conflitto ci porta all'autorealizzazione. Che cos'è? Questo concetto consiste nel seguire le proprie inclinazioni. Quindi nel navigare nel mare della vita con le nostre leggi interiori. Autorealizzazione significa che occorre imparare a vedere i nostri problemi come farebbe un artista. Cioè con un atteggiamento creativo capace di combinare i fatti in modo nuovo. Andando oltre gli schemi mentali, gli automatismi culturali, la visione collettiva. Puntando quindi tutto sulla nostra indipendenza, sulla nostra autonomia psicologica, che corrisponde però alla nostra libertà. Una libertà dalla manipolazione psicologica, dalla dipendenza affettiva. Questa libertà si nutre di nuove relazioni con le cose che ci capitano. Si nutre di uno sguardo nuovo sui avvenimenti. Del resto chi fa una psicoterapia cerca delle risposte nuove a ciò che gli sta capitando. La psicoterapia aiuta la persona a rileggere le lacerazioni interne, le sue ferite, le ferite dell'anima. L'aiuta a rileggerle in modo nuovo, con un atteggiamento che dà un senso nuovo agli accadimenti della vita. E com'è possibile questa rilettura? Questa rilettura ha a che fare con una interpretazione dell'inconscio della persona. Perché nell'inconscio è riposta la ricchezza psicologica. Ed è lì che si trova una parte importante della creatività inespressa, della creatività imprigionata nel sintomo stesso, che deve essere quindi interpretato con una chiave diversa. E allora, per rinascere dalle nostre ceneri, per rinascere da un abbandono affettivo, o per liberarsi dalla manipolazione, la persona cosa deve fare? Deve trovare in sé stessa un atteggiamento che possa dare un senso nuovo a ciò che le accade, per non lasciarsi paralizzare dal dolore. E deve far tesoro della tensione, la tensione che deriva dai suoi conflitti. cercando di coniugare questa tensione al sentimento, usandola per creare se stessa. Io mi fermo qui e vi informo che faccio consulenze psicologiche online, sia con la videochiamata, sia consulenze telefoniche o via mail. Per cui, se volete richiedermi una consulenza, dovete scrivermi un messaggio su WhatsApp al numero 338-1692-473, scrivendo come funziona la consulenza, specificando il vostro nome, cognome e i vostri orari preferiti. Inoltre, potete trovare tutte le mie idee sul narcisismo, sulla dipendenza affettiva, eccetera, in quattro libri che però si trovano soltanto su Amazon e sono ordinabili sia in versione cartacea che in formato e-book. Buona cosa.